ragazzi ma iniziamo bene anche quest'anno e cioè ma è possibile ma iniziamo anche quest'anno proprio nei migliori dei modi e ma io lo dicevo dallo scorso non ha senso fare sfoghi io che volevo a dire ecco sono tornato dopo un periodo in cui la nazione fatto partite meno male direi meno male almeno non mi dice adesso con questa partita mi sono rovinato anche questa festa anche questo giorno e poi dite ragazzi ragazzi c'è mai in difesa ma è possibile una cosa del genere cioè nel primo gol stracoscia fa va a vuoto fa fallo e quindi su rigore non mi ricordo più chi ha segnato comunque dopo nel giro di pochissimi minuti arriva anche il raddoppio cioè dopo dici che non ti arrabbi ma come si fa a non arrabbiarsi cioè quel gol c'era tutto solo zulkowski da mannaggia poi noi meno male che non è che posso dire abbiamo perso ma non abbiamo giocato bene perché abbiamo creato tanto e meritavamo secondo me è che le solite cagate difensive ragazzi non è possibile che noi dobbiamo ogni volta soffrire così tanto in difesa poi si è fatto male a cerbi speriamo non sia nulla di grave però dopo è entrato patrick che per poco nel secondo tempo faceva anche gol è che ne hanno annullato poi avevamo preso anche un attraverso nel primo tempo con felipe anderson che è stato molto propositivo oggi quindi complimenti e a lui non si è nascosto ecco diciamo poi milinkovic doppietta più un assist e dopo immobile ha sbagliato il rigore ma ha segnato dopo meno male che in pareggio siamo riusciti a prenderlo però potevamo tranquillamente vincere se dovevamo essere un po più concreti sotto porta ma più che altro ragazzi a livello difensivo veramente ci ha segnato anche di francesco è con tutto rispetto è un buon giocatore però noi non possiamo lasciare liberi gli avversari cioè ma 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 ci rendiamo conto ma ma noi io non lo so ragazzi io non lo so e non voglio neanche di stare qua a parlare tanto perché veramente una lancia così ma ma adesso se noi andiamo avanti così e non arriviamo neanche decimi neanche decimi arriviamo eh no ragazzi io veramente non so che dirvi se dobbiamo andare avanti così fino a fine dell'anno ditemelo che io qua devo fare qualcosa prima smetto di guardare le partite smetto di farvi video buon ditemi voi sotto nei commenti ma no dai scherzavo io continuerò sempre però almeno non è possibile noi dobbiamo un po svegliarsi perché a livello difensivo siamo troppo fragili ragazzi c'è poco da dire ma noi siamo anche una macchina da gol e poi questa era una partita sulla carta semplice dovevamo vincerla questa partita per provare a raggiungere gli altri che erano più avanti in classifica e invece no e invece no ragazzi noi dobbiamo sempre sempre perdere complicarci la vita quando è possibile poi non c'è più neanche caicedo che ti risolve la situazione all'ultimo secondo bene saccagni ripeto quando è entrato ma oggi non è che posso trovare tantissimi giocatori che hanno fatto male si sono impegnati tutti solo che noi abbiamo sempre dobbiamo sempre complicarci la vita a livello difensivo facciamo veramente pietà io spero che prendino un difensore buono ma non è possibile lasciare tre volte tre volte non tre volte i calciatori la liberi da soli grazie che ti segnalo dopo è grazie ma ragazzi io non ne posso più guardate no e non ne posso più siamo alla prima alla prima dell'anno cioè dopo mi dicono che è impossibile arrabbiarsi io devo cercare sempre di star buono però dovete capire che la pazienza di un tifoso ha un limite perché voi siete professionisti siete difensori professionisti come fate a lasciare gli attaccanti soli così in questo modo attaccanti o difensori chiunque sia messo in quella davanti insomma poi noi ripeto giochiamo anche bene nel senso poi abbiamo segnato anche in più occasioni da calcio d'angolo abbiamo creato molte occasioni abbiamo meritato secondo me ma ci dobbiamo sempre rovinare la giornata sempre dobbiamo sempre rovinarci tutto ma non è possibile andare avanti così e poi mi dite che uno non può essere un po arrabbiato io veramente non so che dire spero che la prossima ma se non diciamo la prossima diciamo che il sogno champions veramente a parte che la prossima sarà difficile perché domenica dobbiamo sfidare l'inter se giochiamo così non abbiamo possibilità ma adesso vi spiego perché 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 non abbiamo la difesa praticamente diciamo se non c'è il nostro acerbi allora beh contro l'inter ne prendiamo dieci che noi alla fine vedete no quando c'è immobile però si verono c'è vedete senza immobile con immobile tutta un'altra cosa si crea molto di più con immobile e ragazzi ovviamente qualche volta sbaglia anche lui però immobile è un grande calciatore e dobbiamo assolutamente affidarci a lui però ecco adesso che c'è il calciomercato cerchiamo un po di rinforzare questa rosa per favore è un minimo perché ci servirebbe un attaccante in più dei difensori in più ma comunque ritornando a noi se non vinciamo contro l'inter anche è impossibile ragazzi ma non più che altro per l'attacco perché noi ce la possiamo fare cioè noi siamo molto propositivi anche con immobile siamo forti però il problema è la difesa che noi a me non interessa segnare 50 gol in una partita se poi ne subiamo 100 capite quello che intendo dobbiamo migliorare sta maledissima difesa non è possibile che siamo una delle peggiori difese siamo una big mannaggia cioè noi rischiamo ragazzi di fare un campionato veramente da decimo posto perché non è possibile che la nostra difesa subisca così tanti gol perché una big non può subire una media di 1 2 3 gol a partita cioè noi adesso non vorrei dire una stupidaggine ma subiamo una media di quasi 2 gol a partita se non dei più cioè ragazzi è una cosa impressionante poi contro anche le piccole che comunque l'Empoli complimenti all'Empoli che sta facendo un'ottima stagione però e noi invece una pessima ma non ci siamo difensivamente non ci siamo proprio però cose che tengo è sottolineo la prestazione offensiva ecco e magari l'entusiasmo nient'altro che dire io spero che questo video vi sia piaciuto lo stesso solite cose se volete iscrivetevi in altri video precedenti sotto nella descrizione il link per seguirmi su instagram negli altri miei due canali youtube detto questo io che vi devo dire che vi posso dire anzi ragazzi speriamo bene per la prossima e sempre forza razza nel bene nel male ciao chilotti grazie a tutti